Amici miei, andiamo dai piatti con Spongebob The Cosmic Shake. Vediamo anche che... Ti provo di me che l'isola è lento. Piango. No, non è quella. Peccato. Questo mondo è abbastanza divertente, ma spero che nessuno dei nostri amici si è ritrovato qui. Quanto... Siamo manco a metà, però... insomma... Vai a caldo. Sì, c'è caldo o a freddo? Sì, c'è caldo. Mi piace un sacco. Mi piace veramente un sacco. Ma... È bellissimo. È... È semplicemente bellissimo. È un divertente che... Mi aspettavo, ma mi aspettavo fino a questo punto. Perché... È... È proprio... Molto... Divertente. Da giocare... Da ridere... Cioè... È... 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 È il gioco estivo perfetto. È... Come Lai ha fatto quel bichino da un... Due anni fa. Quindi... C'è giocato. Ok. Stanno aumentando i più. Aspetta. Ok. Via. Uh. Che è successo? Mi ha... Trocato Spawn. What are best friends for? Ok. Via. Scusa... Ah. Matic. No. Ho sbloccato la fionda, vecchio. Ho sbloccato. No. 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 Lo scopato. C'è biter, admiral. Prawn. Has stolen me beloved ship. Withered broccoli ahead! Never mind. It's just the flying Dutchman. He has my pineapple too? That fruit-stealing freebooter is taking this too far. Mr. Dutchman, sir, you have to get your ship back so I can get my pineapple back. But prawns without all me precious socks. No pirate worth their salt would follow a sockless captain. And if I can't round up a crew, we won't stand a chance against the Admiral. You don't need socks to be a pirate. Why, Patrick here has never worn socks a day in his life. I don't even have feet. So, if you need a couple of loyal sea dogs, Patrick and I will gladly join your crew, socks or no socks. All right, all right, but first, ye scallowags, you must prove that ye are real pirate material. To show that you are worthy, you must unearth a real treasure. Uh-huh. Uh-huh. Turn yourselves fierce some pirate names. Uh-huh. Uh-huh. And find army socks. I still want them back. Aye-aye-aye, captain Dutchman, sir. Aye-aye, captain Dutchman, sir. These guys, they think they're famous. lo stai girando 10, 6, 7 giugno è bello è divertente è proprio quello che voglio da un gioco di Spongebob divertimento a pacchi divertimento a pacchi eh e dire che lo sto tenendo riduttivo chi ne ha il piacere lo stile di Spongebob fortunatamente ho sempre stato la delle messie animali preferite vado bello da cavallo che cosa succede? ok sono un idiota ovviamente è fatto questo non so se sia meglio o peggio di me ok 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 mi dai vittoria di un angolo per il segno ok questo c'è chiara? ah quello attiro ah è proprio qua a te abbiamo scoperto cose strane in metapartic durante questo display ad effetti un po particolari riberciano le cose viscide che schifo ok sono perplesso dalla struttura di sto livello inizialmente sono molto perplesso dalla struttura di sto livello però va bene così ma la campanile di Spongebob fa suonire si bellissima no ma un'intervabilità c'è ma topai non così può vedo che è successo di nuovo ok ma se io l'avrebbe messi col tasto cosa allora ti prendo un'intervabilità ti prendo un'intervabilità mi sta facendo di nuovo di giocare a pacman world in questo momento mi sono fatti cadere no perché mi sta facendo di nuovo di giocare a pacman world perché quando ero piccolo l'avevo fatto 30 mila volte in mondo dei piatti in pacman world mi sono fatti cadere mi sono fatti cadere ma perché ma perché va bene ok ok qui l'abbiamo proprio distrutta no e mi servono altri costumi che non altri costumi altre mosse che non 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 molto bene non mi aspettavo di quest'area no ok lì cosa abbiamo ah devo farmi devo farmi tutto il papuro con con i tiki blu ma io ti sempre sbaglio con il tasto per scendere con cattiveria con questo e perdo tutto attacchi ok bene speriamo che è un po' troppo facile così eh però non ci ho battuto fuori bignibottom ma onestamente non me lo ricordavo dunque è un gioco difficile ma poi è un gioco di spawn devils ah io posso di dover fare tutto il qualcuno ma è Larry? si ok allora piano 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 ok bene molto molto bene molto molto bene oh timore avevo il timore oh my gosh real life pirate ships io voglio un gioco io voglio un gioco io voglio un gioco ok io voglio un gioco ok ok ti devo posso o bloccarti ok ok è immaginale ok 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 io voglio un gioco io voglio un gioco io voglio un gioco ma se potessi scegliere allora spongebob e le mie che non 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 è un materiale pirata, non è la mia scuola che ho una allergia severa di eye patch Non perdete l'arte, Larry, ci saranno a rispondere ogni bacini che mi sono qui sta qui o che i nostri nomi non sono Spongebob e Patrick, i... i pirati... Non c'è un nome di pirata molto fissile No, stiamo lavorando qui Grazie Spongebob, andiamo a casa a Tannin e Pump Ok... Ah, un ladzo That swamp looks kinda eerie, come the kind of place you find pirate ghosts Quale fissio pensi che sia? Non capisco se ha... Se... Una cosa è che hanno solo i costumi e se sono proprio così Ehm... Eh... O se in generale è così il gioco Nel senso che se io avessi orego, non è che al senso la cowboy Perchè per ora... Una delle poche... che ha mancato da piaggio che possa portare al gioco la sua... e il fatto che... Questi giorni... non influiscono così tanto però... Allora stanno in due... Allora che ci penso... Allora che ci penso... Allora sotto... Allora sotto... Allora sotto... Allora... Ok... 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 ok 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 no 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 melmo di melmo c'è veramente un tale spazio più in gas questo gioco non è difficile citto in me non cerca tanto tempo mi mancano due ok qui 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 vai qui 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 che cosa fai? molto bene, perché che lo abbiamo? e? dove andiamo? che lo abbiamo qui? ok 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 molto bene tu 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 quanto è stato di video? 20 minuti, ok ok il tempo passa a una velocità però no non ti preoccupati che non gliela con gliela con gliela con gliela con gliela con gliela con gliela ok l'avevo ok non so perché ho scelto di sistemare la telecamera in questa maniera ma io lì che non ci arrivo ok così ah c'è un botto che va a battere allora e soprattutto hanno anche ieri ok 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 se ci stavessi questi ragazzi e hoistere i sottotitoli, sembrava che il Ducchi ha un'armada che tutti conosceranno che è tornato! Spongebob, questo è abbastanza buono, ma i sottotitoli non hanno alcuni piedi. Come si prenderanno i sottotitoli? Molto attenzione, Patrick. Let's go! Non vuoi? Ok, non è fondato il mestiere. Perché si era bugato sul... sul cavalcare la tavola, non vorrevo. Lì c'è dell'altro. Ok. Ok. Nulla, eh. Tu, i cazzitoli non riesci proprio a farteli. Ok. Dai. Su. Tanto non ha contato nemmeno la notte, c'è un colpo. È una cosa che... mi... riempie di tristezza. tu, 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 tu... Ok. Ma dovresti questo? Devo prendere altre calze? O no? Troppo pericola, ho una vita. Fatty che non mi sta portando un'altra vita Non è fatta perdere tutte queste vite Scusa, io come ho fatto? Non mi ricordo Qua si Qua che se ce ne può fare di capo esso? E' l'unica cosa che mi sta venendo in mente Vai Qua che vuoi? Tanto sapere perché un mostro di gelatina dovrebbe tenere una vasca ma va Gelatina di melma dovrebbe Vabbè, insomma, è un discorso quello Perché nel momento è un mistero per me Non, non è un'altra cosa Non, non è un'altra cosa Non, non è un'altra cosa Quattro mille avreste un giro molto obiettivo Non, non è un'altra cosa Non, non è un'altra cosa Quattro mille avreste un giro Ma poi rimane così Proprio per farla Non di immobile Non va bene mamma ah cazzo mi manca questo di obiettivo eh allora lo faccio ok ultimo cosa fai? cosa si stava distraendo? buongiorno mi dico buongiorno in caso di capire che brettino è si incasta a le spalle ok tutto sarebbe stato tragico ok ok sono pronti per prendere lì sono pronti per prendere quindi abbiamo trovato una cosa di spot la tana oh questo è un castello di sand deve essere con il king di sandland ok 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 dove cazzo sei? ok 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 contattarci ok 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 con un po' di rischio scoppiamo? ma no che sono solo tipi, va bene non mi fido credo che devo fare il gioco lungo credo che devo fare il gioco lungo se vado qui ok ah ce n'è anche altra in su ok no vedi prego ok siamo entrati in un brutto lupo molto bello molto bello ci sono 10 io ho qualcosa qui su ecco qualsiasi pensi che è? è anche qui comunque una moneta mi ci pesa a culo quanto? mi devo impegnare per quanto è pallo al 100% non mi avevo impegnato così tanto per l'alto spot lo giuro non dico che non mi ero quasi impegnato perché mentirei però insomma non è che avessi fatto grandi cose ok non mi avevo impegnato non mi avevo impegnato non mi avevo impegnato vabbè vabbè così mappa Grazie a tutti.